Dal 15 giugno al 15 settembre le imbarcazioni della cooperativa Navigazione Golfo dei Poeti solcheranno le acque tra La Spezia, Lirici, Porto Venere e Tellaro con cinque corse giornaliere rendendo realizzabile un tour mozzafiato. Un'opportunità per i tanti turisti che da qualche tempo vengono nella nostra città ma anche per i residenti. Abbiamo sempre cercato di affrontare il tema assoluto della napoleonica per quanto riguarda il problema del traffico e credo che questo sia un'ottima risposta non solo per quanto riguarda il collegamento fra il golfo ma anche il collegamento fra le frazioni del Comune di Porto Venere che da quest'anno riusciamo a far partire già dal 29 giugno e si protrarrà fino al primo di settembre e che garantirà appunto tutta una serie di corsi durante la giornata in modo tale che la gente possa, residente, possa spostarsi all'interno del golfo. Un tour che toccherà le perle più luminose del nostro golfo tra cui Tellaro. Sì, finalmente ci siamo riusciti, era l'obiettivo principale e sinceramente ci tenevo proprio a questo collegamento di Lerici con Tellaro e la navegazione del golfo ha risolto con coraggio quelle che sono le problematiche. E' importante che in questi processi di crescita i privati siano il motore ma che le istituzioni pubbliche abbiano comunque un ruolo di regia, di programmazione. Il pubblico deve essere un facilitatore, noi abbiamo un golfo tre più belli al mondo sicuramente che va valorizzato, questo fatto ad esempio di mettere in collegamento i tre castelli che sono la storia delle nostre tre città sono una cosa, un unicum al mondo e oltre a questo altre iniziative si svilupperanno quando avremo la certezza che i flussi siano costanti in modo da rendere ancora più attrattivo e dare le risposte che tanti turisti cercano nella loro esperienza emozionale. Una flotta importante e tante persone che lavorano in questo settore. Sì, siamo circa 100 persone distribuite tra marittimi a bordo e personale a terra di assistenza, le biglietterie e l'ufficio. Abbiamo una quindicina di imbarcazioni, abbiamo una nuova imbarcazione che penso arriverà fra pochi giorni, pensiamo di inaugurarla a luglio e si chiamerà appunto Lerici, è un'imbarcazione gemella della Levanto molto funzionale e moderna. Questo servizio nasce dalla disponibilità della società navigazione Golfo dei Poeti che si è assunta il rischio imprenditoriale e soprattutto ha anche dimostrato disponibilità prevedendo dei prezzi ridotti per i residenti. Noi auspichiamo che questa rinnovata collaborazione fra le amministrazioni locali e la società navigazione Golfo dei Poeti porti a idee, a nuovi progetti che possano contribuire alla crescita complessiva anche della qualità dell'offerta turistica all'interno del nostro golfo.